Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video Sono qua su Youtube, come vedete Qui su Youtube, vabbè, dovremo andare su App Store App Store, ok Oggi questo qui facciamo un tutorial molto semplice Questo video lo vedete giovedì, quindi lo vedete oggi Io vi farò vedere un tutorial di come Come fare il vostro logo su Youtube Allora, dovete scrivere GamerLogo GamerLogo su App Store Poi ci vengono le varie offerte Io prendo questo GamerLogo di... Ok, non è gratuito Potete scaricarlo tranquillamente Dimmi il mio caso Allora, il mio caso sì Allora, dovremmo scegliere il fondo Tipo io scelgo questo Io ho già fatto il mio, come vedete Poi Joker Sì, ma è troppo banale Io mettere tipo una cosa così Sì, è così Mi piace Anzi no Cambiamo Per esempio quello Ci sono tante pubblicità Però molto felice questo video Allora, vai mettiamo questo Mettiamo Eeeh, no Mettiamo una cosa Ecco, tipo questo Perfetto Andate su testo Scrivete il vostro nickname Tipo Eeeh, giocherigno Giocheri Giocherigno Giocherigno A caso Ve lo impostate qua Aspetta Vabbè, eeeh, vabbè Poi qua c'è il tuo testo C'è il vostro testo C'è il vostro testo Mettete tipo questo Questo non si vede Mettiamo il colore Tipo mettiamo Il Così Perfetto Quando vedi l'opportunità EG Molte, 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 molte Molte Te lo allarghi Come ti pare Ti lo metti così Ok Te lo metti così Ti lo metti così opaco Perfetto Poi qua c'è un altro tipi Ma Ma non piacciono Poi te lo preferisci Come ti pare Così Tipo così E poi lo puoi salvare Save Così tipo Aspetta Tipo così PNG E dopo se vai L'hai salvato Vai nelle foto Vedrete anche la mia faccia Va bene Che se ne può Tipo andiamo in questa Quella là È il mio fratello Quindi non vedete La mia faccia Questo qui è tipo Il Potrebbe Potete scegliere Anche questo Però mi piace così Quindi Per questo tutorial È tutto Mi manca Grazie tanto Venerdì Venerdì Torno E farò E adesso Mi stallerà Rainbow Perché ci sarà Il nuovo aggiornamento Giocheremo un po' Forno Un po' O quello che volete Overcooked O quello che volete Dai Per questo video è tutto Mi mancate Bella Anzi no Facciamo così Grazie a tutti